Per loro è stato solo un aperitivo, per altri è stato il dessert di una vita, un momento ciliegina da porre a conclusione di un'epoca, la più spensierata. Come tutte le belle storie non dura per sempre, quelle con lieto fine durano in eterno. Queste vanno e vengono come una sbronza presa al tramonto in mezzo a una folla urlante di ventenni. La sbocciata non è altro che un attimo eterno che rimane fermo lì, prima che lo champagne ti arrivi in faccia, quando ancora l'eccitazione è al massimo e non può scemare né crescere. È a quel momento a cui pensano ancora adesso tanti adulti, dietro le loro scrivanie, quando sono assaliti dalla noia. È quel momento che il mio popolo si porta dentro come un sacramento per tutta la vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.